Realizziamo questo esperimento e lo trasformiamo in un esercizio. Un disco di metallo è il nostro corpo rigido, vincolato nel centro, libero di ruotare. Agganciamo 5 pesetti in questo foro, che chiamiamo B, e la forza peso dei 5 pesetti la chiamiamo FB. Poi agganciamo un dinamometro in questo foro, che chiamiamo A, e la forza elastica del dinamometro la chiamiamo FA. Vediamo che il dinamometro segna 1,6 N. Inoltre mettiamo qua un filo a piombo per vedere dove cade precisamente la verticale. Dopodiché tracciamo con la matita una linea lungo la verticale e tracciamo anche questi altri raggi che collegano il centro, il fulcro, con i punti A e B. In questa foto è riprodotta la situazione, la verticale, e abbiamo anche misurato gli angoli che sono 36 gradi tra queste due linee, 32 gradi tra queste altre due. Inoltre il raggio del disco, dal centro fino ai fori, è di 15 cm esatti. L'obiettivo di questo esperimento è misurare indirettamente il peso di questi 5 pesetti, quindi FB. Indirettamente nel senso che bisogna stimare questo peso in base all'equilibrio di questo disco, che appunto sta fermo e non ruota, sottoposto a queste forze qua. Poi dopo aver stimato questo peso facciamo il controllo, appendendo i 5 pesetti al dinamometro per vedere se il valore che abbiamo calcolato è in accordo con il valore segnato direttamente dal dinamometro. In realtà già anticipiamo che questi due valori saranno un po' diversi e il motivo probabilmente è che, come si vede da questa fotografia, il dinamometro non era stato posto perfettamente orizzontale, ma un pochino inclinato verso l'alto. Dopo ci torniamo meglio. Questo è lo svolgimento dell'esercizio. Con gli angoli che ha una misura più precisa sono risultati di 35-30 gradi. Questa è l'incognita, il peso dei pesetti. Come sempre, ogni volta che un corpo rigido è in equilibrio, si parte dalle equazioni cardinali dell'equilibrio. Quindi la forza totale uguale a 0, il momento torcente totale uguale a 0, perché il disco, in questo caso il disco, non trasla, forza totale uguale a 0 e non ruota, momento torcente totale uguale a 0. Come al solito, analizziamo tutte le forze che sono 4. Infatti c'è FA, nota, FB, l'incognita, poi c'è la forza peso del disco, FG, che è applicata nel baricentro, che coincide con il fulcro, e poi come sempre c'è la forza vincolare. Proprio perché il baricentro coincide con il fulcro, la forza di gravità sul disco non fa nessun momento torcente. Mg è 0, perciò l'abbiamo barrato, e anche, come sempre, il momento torcente della forza vincolare è 0, perché queste due forze sono applicate nel fulcro, quindi non hanno braccio. Dunque, sopravvivono soltanto i momenti torcenti delle forze A e B. La loro somma vettoriale deve essere 0, vuol dire che sono due vettori uguali opposti. Perciò, la formula vettoriale, devo metterci il meno. Invece, se mi riferisco soltanto alle loro intensità, cioè i moduli, allora i loro moduli sono uguali. L'uguaglianza di questi due moduli, cioè il fatto che siano due vettori momenti torcenti uguali opposti, assicura che non ci sia rotazione, cioè il disco sta fermo. Disegniamo questi due momenti torcenti, mi sono dimenticato di farlo nella figura. Comunque, bisogna ragionare, come al solito, immaginando che agisca una sola forza per volta. Se agisse soltanto F A, cercherebbe di far ruotare il disco in senso antiorario. Quindi, il momento torcente MA è un vettore che esce dal foglio e viene verso di noi. Dovrei disegnarlo con un cerchietto con un puntino al centro. Un vettore che esce e viene verso di noi. Invece, MB, bisogna ragionare sempre come se ci fosse soltanto la forza FB sul disco, che vorrebbe farlo ruotare in senso orario. Quindi, MB è un vettore che entra e lo dovrei disegnare con un cerchietto con una X. Ora, passando ai moduli dei due vettori, forza per braccio di A è uguale a forza per braccio di B. Questa è un'equazione con una sola incognita, che appunto è la forza peso dei pesetti. Infatti, F A la conosciamo, è 1,6 N e i bracci li possiamo calcolare dagli angoli. E troveremo 6,3 cm il braccio di A, 8,6 cm il braccio di B. Adesso vediamo come si fa. Cominciamo calcolando il braccio BA. L'errore tipico è di confondere il braccio di questa forza con la distanza OA, quindi con il raggio del disco. Invece, bisogna prolungare la forza, quindi la retta della forza, e il braccio è la distanza tra il fulcro e la retta dove giace la forza, quindi questa retta qui. Quindi il braccio di A è questo tratto. Allo stesso modo, per trovare il braccio di B dobbiamo prolungare la retta della forza FB e il braccio sarà a questo tratto, come indicato in questo disegno. Prolunghiamo la retta della forza FB e questo è il braccio di B. Per calcolare il braccio di B utilizzeremo questo triangolo rettangolo che ha, oltre al cateto braccio B, all'ipotenusa OB. Invece, per calcolare il braccio di A utilizzeremo quest'altro triangolo rettangolo che ha come cateto BA e come ipotenusa OA. E si tratta di questo triangolo qui. Ora, questo angolo lo conosciamo perché è l'angolo formato dalla verticale con OA. Verticale OA, quindi questo angolo qui è la somma di questi due, è 65 gradi. E la nostra incognita adesso è il braccio, è questo cateto che è il cateto adiacente all'angolo. Siccome è l'adiacente all'angolo noto, allora bisogna lavorare con il coseno. Coseno di 65 gradi per definizione è il cateto adiacente, quindi BA adiacente all'angolo, diviso l'ipotenusa R. Facciamo la formula inversa, troviamo il braccio BA uguale a R coseno di 65 gradi, quindi 15 centimetri coseno di 65 gradi 6,3 centimetri. Procediamo in modo simile per calcolare BB. A noi serve questo angolo tra la direzione orizzontale e l'ipotenusa OB. Quindi ci serve questo angolo tra la direzione orizzontale e l'ipotenusa OB. Questo angolo è la somma di 30 gradi più quest'altro che ancora non conosciamo, ma lo possiamo facilmente ricavare perché tutto quanto è 90 gradi. Perciò 30 e 35 fa 65, allora il complementare a 65 gradi, di 65 gradi, è 25 gradi. Perciò l'angolo che serve a noi tra l'orizzontale e OB è di 55 gradi. Ed eccolo qua sotto. La nostra incognita qui è il braccio di B, è il cateto adiacente all'angolo noto. Quindi bisogna fare anche stavolta con il coseno. Coseno di 55 gradi è uguale al cateto adiacente all'angolo BB diviso l'ipotenusa che è sempre 15 centimetri. Con la formula inversa troviamo 8,6 centimetri. E giustamente, come si vede anche dal confronto dei disegni, BB è venuto un pochino più lungo di BA. Quindi vuol dire che la forza B, cioè questa, agisce con un braccio maggiore della forza A che agisce con un braccio minore. Già da qui capiamo che, affinché il disco non ruoti, la forza che agisce con un braccio maggiore sarà leggermente minore dell'altra. Quindi ci aspettiamo che FB sia minore di FA perché il suo braccio è più lungo di BA. Siccome FA era 1,6 N, ci aspettiamo che FB sia minore di 1,6 N e infatti così sarà. Torniamo a dove eravamo rimasti prima, quindi i due momenti torcenti uguali e contrari, stessa intensità, stessi moduli. Eravamo arrivati a questa equazione e c'era da trovare FB. Qui lo possiamo calcolare direttamente, FABA sarebbe il momento torcente di A, MA, e sono, moltiplicando questi due, 10,1 N cm, che è anche il momento torcente di B. Dopodiché, facendo la formula inversa, troviamo FB, 10,1 N cm diviso 8,6 cm fa 1,2 N. Quindi si conferma che FB è venuto più piccolo di FA, come abbiamo detto poco fa. Però se noi andiamo a guardare il valore segnato dal dinamometro quando appendiamo i pesetti, e quindi la misura diretta di FB, i pesetti, vediamo che questa misura non è 1,2 N, dovrebbe fermarsi qua la molla, invece è 1,6 N. Quindi uguale a FA sembrerebbe, come se le due forze avessero lo stesso braccio, cioè il fatto che siano venuti della stessa intensità FB uguale a FA, significa che hanno bracci lunghi uguali, mentre invece teoricamente erano diversi. Allora, questa cosa si può spiegare con il fatto che in realtà la forza FA era stata esercitata obliquamente. Allora, questo vuol dire che se la forza FA è obliqua, il suo braccio è un pochino più lungo, perché la retta della forza FA non è più orizzontale, ma è inclinata in questo modo, e quindi il braccio è un po' più lungo. Magari non è più 6,3 cm, ma si avvicina a 8,6 cm. Perciò, l'inclinazione sbagliata di FA potrebbe giustificare il fatto che le due forze sono uguali di intensità. Come ultima osservazione, possiamo calcolare la forza vincolare, calcolare e disegnare. Ricordiamo che la forza vincolare è quella forza che garantisce che il totale di tutte le forze sia 0, cioè quella forza che va ad annullare tutte le altre messe insieme. Ricordiamo anche che le forze in tutto erano 4, e le altre 3 quindi sono queste. Sono FA, FB e FG che si sommano insieme perché sia FB, questa, che FG, che è il peso del disco, sono dirette entrambe e rivolte verso il basso. Quindi, questa è la somma del peso del disco e dei pesetti. Questa è FA, sommate insieme, vanno sommate con la regola del parallelogramma. Il valore della loro somma si può calcolare con il teorema di Pitagora, facendo i newton di questa forza al quadrato più i newton di questa qua al quadrato sotto radice. Dopodiché possiamo disegnare la forza vincolare come quella forza che è uguale opposta alla somma delle altre. Quindi, uguale e opposta a questa, in modo che il totale delle forze faccia 0. Naturalmente la forza vincolare ha la stessa intensità che abbiamo appena detto di questa forza qui.